Ciao a tutti, benvenuti al ristorante Lancio Ramen a mano di Milano. Siamo un ristorante tradizionale di spaghetti di Lancio. La pasta è una delle anime della cucina cinese e noi vogliamo portare questo cibo delizioso a Milano. L'arredamento del locale è in stile cinese, caldo e accogliente. Qui la pasta è composta principalmente dai Lancio Ramen, un'ottima scelta per chi non ama il piccante e desidera un piatto leggero. I ramen di manzo brasati sono uno dei piatti di pasta più tradizionali, serviti con tenera carne brasata. Hanno un gusto ottimo. I ramen freddi sono una specialità del ristorante. Mischiano insieme la carne tritata e i ramen fatti a mano. Il sapore della salsa non sarà facilmente dimenticabile per un po' di tempo. I ramen che serviamo sono tutti fatti a mano dal nostro chef, di modo da presentare ai vostri occhi un'autentica ciotola di ramen. Noi siamo il ristorante Lancio Ramen a mano. Da noi potrai assaggiare i veri ramen di Lancio. Siamo in Viale Tunisia 12 a Milano. Ti aspettiamo. Per 그럼 l'hoanni è in V Arena. Ciao. Ciao ciao. Oh Grazie a tutti.